La prossima tappa del percorso che dovrebbe portare Estra in borsa per un aumento di capitali è quella del prossimo 7 marzo. Il presidente Roberto Banchetti, già assessore all'ambiente e mobilità in quota PD al comune di Arezzo, illustrerà all'assemblea di Coingas i vantaggi della quotazione a piazza affari. In sostanza si chiederebbero al mercato non più di 100 milioni di euro che andrebbero ad aggiungersi agli attuali 205 di capitale. Una cifra ritenuta indispensabile per effettuare investimenti e per far crescere questa multiutility in gran parte pubblica in modo da affrontare adeguatamente le liberalizzazioni per la gestione della rete. La società guidata da Banchetti ne gestisce già 5.800 chilometri per un valore di riscatto di alcune centinaia di milioni di euro, numeri che classificano l'azienda all'ottavo posto su scala nazionale nel settore della distribuzione del metano. Anche se, va detto, questo non è l'unico settore dove opera estra. Il gigante, che ormai vanta circa 700 milioni di euro di fatturato, è attivo per esempio anche nel settore del fotovoltaico e del trading del metano. Così l'eventuale quotazione in borsa avverrebbe al massimo tra un anno e mezzo, anche se il percorso dovrà superare diversi step. Il primo sarà proprio quello del 7 marzo, quando anche Consiag di Prato e Intesa di Siena si pronunceranno sul medesimo argomento. Queste due società, insieme a Coengas, detengono infatti per un terzo ciascuna le quote di estra e sono partecipate dai comuni dei rispettivi territori. Per l'approvazione dell'aumento di capitale l'ultima parola spetterà proprio a loro, ai 99 consigli comunali che dovranno esprimersi sull'operazione.